Nei paesi dell'Unione Europea ci sono 20 milioni di bambini a rischio povertà o esclusione sociale e quanto rileva l'Unicef nel rapporto intitolato la condizione dei bambini nell'Unione Europea 2024 in cui emerge un altro dato preoccupante. Più di 11 milioni di bambini e giovani europei soffrono di problematiche legate alla salute mentale. Nel report si sottolinea una crescita non soltanto della povertà ma anche di reati sessuali compiuti online e una esposizione sempre più pericolosa all'inquinamento. Quasi un bambino su 20 infatti è esposto a livelli elevati di inquinamento da pesticidi mentre nel 2019, l'anno più recente in cui sono disponibili i dati, sono stati accertati 472 decessi di bambini e giovani causati dall'inquinamento atmosferico. La gran parte delle vittime poi aveva meno di un anno. Gli sviluppi della tecnologia digitale espongono i bambini a discorsi di odio, cyberbullismo e sfruttamento sessuale. Il rapporto evidenzia che un bambino su 8 a partire dai 12 anni riceve regolarmente richieste online indesiderate a sfondo sessuale. In vista delle elezioni del Parlamento europeo l'Unicef esorta l'Unione Europea a tutelare e rafforzare i diritti dei minori.